Sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria. Bentrovati miei cari figlioli, stiamo facendo una intensificazione, un tour de force attraverso l'Apocalisse, perché è stata in effetti molto spezzettata anche in ragione del fatto che ci preparavamo alla consacrazione come schiavi di Maria, finalmente possiamo in questo periodo dedicarci particolarmente all'Apocalisse. La volta scorsa, due sere fa, avevamo tutti insieme riflettuto sulla quinta tromba. Siamo nella sezione, lo ricordiamo perché io lo faccio apposta perché rimanga impresso, che adesso dopo le visioni introduttive ci stiamo muovendo dentro la scansione di tre volte sette. Primo i sette sigilli che l'agnello apre, poi le sette trombe, siamo arrivati con quella di stasera, la sesta tromba, e infine le sette coppe dell'ira di Dio e poi dopo compare l'agnello di nuovo. Un paio di precisazioni. Siamo entrati nel contesto del demoniaco, ma non è ancora nulla. Non è ancora nulla, questa sera la questione si fa ancora più demoniaca, potremmo dire. Se la volta scorsa il demoniaco colpiva ma non uccideva, questa sera la situazione peggiora perché la quinta tromba ferisce e tormenta, la sesta tromba uccide. Avete notato che è scomparso lo scenario del trono di Dio, dei ventiquattro vegliardi, dei quattro esseri viventi e non ci sono più gli inni, però adesso poi come vedrete nelle prossime catechesi improvvisamente tornerà questo. Vorrei iniziare dando parola quindi a Fonbaltasar. Dice Fonbaltasar in questo splendido testo come vedete qui dal titolo Apocalisse pubblicato anche in bellissima elegante edizione da, pensate un po' Cassedrice Medusa, dice così Fonbaltasar, il demonio caduto sulla terra, ingaggiando la guerra contro i figli della chiesa, compare nella sua forma originaria, non è solo, sviluppa da sé una controtrinità, capito? Come c'è una trinità divina, il padre o catemeno o sentrono, il figlio, l'agnello sgozzato, lo spirito? Così Satana, il demoniaco, sviluppa una controtrinità che in quanto tale possiede la piena potenza seduttiva del male verso l'umanità. E allora come nel nostro stile andiamo a leggere il testo. Il testo che questa sera noi mediteremo è il capitolo 9, versetti 13-21. Leggiamo il testo, sempre da un punto di vista letterario, è ricco di colpi di scena e i studiosi si domandano, l'abbiamo detto altre volte, ma è stato Giovanni che ha scritto questo testo o uno della scuola giovanea? E non vorrei sconvolgervi, io propendo per la seconda ipotesi a dire il vero, cioè riterrei che forse più che Giovanni è uno della sua scuola, comunque sia, diciamo, è attendibile l'idea che sia stato Giovanni che ha scritto a lui. Ad ogni modo chi ha scritto questo testo è stato il più bravo in assoluto, almeno nel Nuovo Testamento. Era uno che si intendeva di cinematografia, non c'è dubbio, perché è veramente, non so se siete d'accordo adesso che siamo già più o meno a metà quasi del cammino, veramente è una sequenza ricca di colpi di scena, no? Ecco, leggiamo il testo, anche questa sera c'è una sequenza ricca di colpi di scena. Il sesto angelo suonò la tromba, udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio. Diceva al sesto angelo che aveva la tromba, libera i quattro angeli incatenati sul grande fiume Eufrate, e qui è chiaro che c'è bisogno di una spiegazione, ecco l'importanza del catechista, del maestro di fede. Furono liberati i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno al fine, attenti bene, di sterminare un terzo dell'umanità. Sterminare, non vi ricorda Paul Yuan, lo sterminatore, ricordate nella quinta tromba, che è Satana. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi il numero, e così vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. È veramente uno scenario, come vedete, narrativo straordinario. Le teste dei cavalli erano… qui c'è anche l'ingegno narrativo dell'autore, che noi naturalmente crediamo che abbia avuto delle visioni, io sono stato a Patmos. Guardate, questa è una cosa che non ho mai trovato da nessuna parte. C'è un ingegno straordinario per dare l'idea dell'orrendo, dell'orribile, del mostruoso, no? Le teste dei cavalli erano come teste di leoni. Che che ingegno! E dalla loro bocca uscivano fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flaggello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, che uscivano dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. Allora voi capite, è un crescendo. Perché la volta scorsa gli uomini venivano solamente tormentati con la quinta tromba. Vi ricordate le cavallette, gli scorpioni? Qui invece vengono… quinta tromba… e qui invece vengono proprio sterminati, uccisi. Lo vedremo. La potenza dei cavalli, versetto 19, infatti sta nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code sono simili a serpenti. Incredibile questa immagine mai trovata da nessun'altra parte. Giustamente gli studiosi dicono, vediamo se nelle fonti extrabibliche, pagane, laiche, diciamo così, si trova così. Niente! E voi sapete, per esempio, nell'immaginario greco-ellenistico c'erano anche artisticamente rappresentate questi animali che mettevano insieme. Ma non si arriva mai, dal punto di vista letterario a qualcosa di simile come l'Apocalisse. Questi cavalli hanno teste di leoni e code di serpente. Qualcosa di veramente mostruoso, di incredibile, e con esse fanno del male. E adesso arriva il colpo di scena, il coup de teatro, dicono i francesi. E veramente l'Apocalisse è continuamente accompagnato da questi colpi di scena. I ultimi due versetti della sezione che trattiamo questa sera e poi dopo vedrete che ci sarà uno stacco. Era già successo, vi ricordate, quei sette sicilli? I primi cinque e sei andavano, poi il settimo è per conto suo. Lo stesso accadrà con le sette trombe. C'è uno stacco narrativo. Dopo la sesta tromba c'è l'imminenza del castigo finale, Giovanni che mangia il libro e poi c'è la storia dei due testimoni che vedremo. Infine si riprende poi con il settimo Sicillo. Ma leggiamo i versetti 20-21. E qui è il colpo di scena. Il resto dell'umanità, perché un terzo viene sterminato. Don Dolindo Ruotolo, io non condivido questo in lui, in questa interpretazione che lui dà, dice che lo sterminio riguarda la guerra. Cioè lui vede, ve lo anticipo, nei cavalli con le teste di leone, fa tutta una lettura simbolica che ci può stare. Ma personalmente non la condivido, adesso vi dirò perché. Eccolo qui, il libro di Don Dolindo Ruotolo, guardate che meraviglia. Lui dice che sono i carri armati. Scrive negli anni Sessanta, c'è la guerra in Vietnam, c'era stata 15 anni prima la seconda guerra mondiale. E lui dice che questi, Giovanni qui vede le guerre del nostro tempo. E quindi i cavalli con teste di leone, fa tutto un discorso sul carri armato che ha appunto la protuberanza e poi all'esterno la coda. Quindi diciamo, secondo Don Dolindo Ruotolo, questi cavalli con le teste di leone e le code di serpenti sarebbero strumenti bellici inventati dall'uomo. Personalmente non sono d'accordo, fra un momento vi dirò perché. Allora però, quello che cosa succede? che un terzo dell'umanità viene sterminata. E questo serve, perché tutto parte come noi vedremo dall'altare d'oro, serve per far capire che Dio punisce per convertire. E invece guardate cosa accade. È tipico di Apocalisse ed è qualcosa di veramente impressionante se guardiamo i nostri giorni. Il resto dell'umanità che non fu uccisa a causa di questi fratelli, noi ci attenderemmo, si converte, no? Si pente, torna a Dio. Ascoltate, non si convertì delle opere delle sue mani. È un pandà narrativo, letterario, teologico, molto aspro, molto duro, molto forte. Non si convertì dalle opere delle sue mani. Non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono né vedere, né udire, né camminare. E non si convertì dagli omicidi né dalle stregonerie. e qui vengono indicate quattro sfere d'azione dell'immoralità, su cui adesso torneremo, non si convertì dagli omicidi, dalle stregonerie, dalla prostituzione e dalle ruberie. Questo è il contesto della sesta tromba. Adesso andiamo, come sempre facciamo, nello specifico. Dunque, anzitutto diciamo che la sesta tromba peggiora la situazione. Il mondo ora è in mano al demoniaco. Dio lascia che Satana si scateni. Vi ricordate la volta scorsa le cavallette e così via? Perché mentre la quinta tromba tormenta e ferisce, la sesta tromba, attenti bene, uccide. Il settenario delle sette trombe non è nell'Apocalisse tra i passaggi più intensi sul piano letterario. Diciamo così, ecco. C'è un gusto per l'orrido, diciamo un po', a dire il vero. Però invece i studiosi sono tutti d'accordo nel dire che però è coinvolgente sul piano emotivo, sul piano scenografico, una vera e propria scenografia. È un film che noi vediamo sotto i nostri occhi. Scrive Biguzzi, Giancarlo Biguzzi, è determinante per la comprensione dell'intera Apocalisse. Cioè le sette trombe sono decisive per capire il messaggio teologico, spirituale e così via dell'intera Apocalisse. Sinteticamente possiamo dire, anticipando la conclusione, prende corpo la vendetta di Dio. E questo imbarba a tutta quella direzione misericordista dei nostri giorni, di un Dio, volemosebbene, di un Dio che non colpisce il peccatore, di un Dio che non chiede conversione e penitenza. In realtà con le sette trombe, dice Biguzzi, prende corpo la vendetta di Dio. E quello che impressiona è sulla base della preghiera dei martiri. Vi ricordate? Al capitolo 6, lo riprendiamo, versetti 9-10, noi leggiamo «Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio». Sono i synergoi, i collaboratori, i martires in latino, cioè i martiri, no? Della testimonianza che avevano reso e gridarono a gran voce «Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai» c'è il verbo proprio, «e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra». Le sette trombe sono una risposta di Dio, e questo impressiona molto ancora oggi gli studiosi, sono una risposta di Dio alla richiesta che precedentemente nel contesto dei sette sigilli gli eletti elevano a Dio. E quindi è un contesto di distruzione. Si parla di morte oggi, però è una distruzione che admira la conversione di chi resta in vita. Il tono è aspre e duro, e non c'è dubbio, come dicono gli studiosi, che c'è il linguaggio delle piaghe d'Egitto, dove noi vediamo che il faraone e gli egiziani, anziché piegarsi dinanzi al passaggio di Dio, resistono, chiudono il cuore. Il faraone indurisce il cuore. E così, avete sentito? I sopravvissuti non si convertono. A volerci pensare, miei cari figlioli, è veramente molto attuale tutto questo. Per esempio, questo coronavirus, esiste o non esiste, non lo so, così com'è andata, ma non ha cambiato gli stili di vita della gente. Viviamo in una cultura neopagana, non c'è stata una riflessione seria sui temi etici, sui temi cristiani, niente, niente, c'è una droga, essere ebri dello spirito mondano. Ecco, quindi comprendere le sette trombe senza l'Antico Testamento, a proposito per esempio delle dieci piaghe d'Egitto, è del tutto impossibile. Ma adesso andiamo nello specifico, leggiamo i primi versetti, versetti 13-14 e spieghiamoli di questa sesta tromba. Il sesto angelo suonò la tromba, vi prego di immaginare sempre quella scenografia del Beato Angelico che rappresenta gli angeli con le trombe. Udì una voce, attenti bene, dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanci a Dio. Versetto 14, diceva al sesto angelo che aveva la tromba, libera i quattro angeli incatenati sul grande fiume Eufrate. Che cosa notate? Notate che coattori, direbbe Fonbaltasar, coprotagonisti sono gli angeli. Gli angeli partecipano di questa opera. C'è una voce che proviene dall'altare. Udì, dice Giovanni, una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio. Bellissimo questo riferimento all'altare, che richiama quello dell'ibatonon, l'incensiere. Mentre si sta dipanando il dramma dei castighi di Dio, nello stesso tempo non si perde di vista, ed è importante che lo capiamo, il riferimento cultuale, liturgico. Cioè, il castigo avviene perché non si è più data l'ode a Dio. Capite? Si ritorna all'altare. L'altare, tu sia sterion in greco, è d'oro. Qual è questo altare? Qual è questo altare? Da cui, come dice oggi Giovanni, viene suonata la tromba del sesto angelo. Qual è questo altare? Fiori cari, proviamo a pensare un attimino la scenografia delle catechesi precedenti. Al capitolo 8, se vi ricordate, versetto 3, leggevamo. Poi venne un altro angelo nel tempo dei sette sigilli e si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro. È tutto d'oro in cielo. Perché? Perché l'oro non si corrompe. Capite? L'oro non si metallizza, non si ossida. Capito? Quindi vuol dire che la lode è divina in cielo. È istancabile. Noi non ci stancheremo mai di lodare Dio in cielo. Per questo l'incensiere d'oro e l'altare su cui si offre a Dio il sacrificio della lode è d'oro, anche esso. E dice Apocalisse 8,3. Furono dati all'angelo molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono. C'è un riferimento nel testo greco al fatto che questo altare ha quattro corni. Il testo greco dice proprio così, 9,13, lo prendiamo subito. Eccolo qui. Dunque, Ecton tessaron cheraton tu, tu siasteriu tu crusu. Ecco, c'è un riferimento ai quattro corni. Cioè dovete immaginare questo altare, Giovanni si ispira molto all'altare dei sacrifici del tempio di Gerusalemme e c'è questo altare nella liturgia celeste nel tempio del cielo con quattro corni. Cosa indicano questi quattro corni? Indicano l'adorazione a Dio seduto sul trono e all'agnello proveniente dai quattro punti cardinali della terra. Come si dice in modo un po' più, diciamo, rapido? Dai quattro angoli della terra sale in cielo da tutto il pianeta la lode degli eletti. Dunque, fioli cari, resta centrale la dimensione liturgica. Non so se cogliete questo. C'è una trama storica che si sta svolgendo ma c'è un incensiere che viene gettato sulla terra e ora c'è l'altare d'oro da cui parte il dramma della sesta tromba. Resta centrale la dimensione liturgica mentre c'è quella storica. Per dire che la dimensione liturgica è quella che dà senso alla storia. Non è un messaggio di poco conto. Marx, i maestri del sospetto, la religione è l'oppio dei popoli. Feuerbach, la religione è una proiezione dei desideri umani. Nietzsche, no? Dio è morto, il super uomo dionisiaco e poi l'illuminismo, Voltaire, Diderot e tutta questa campagna, fioli cari, attenti bene, tutta questa campagna anticristiana che proprio dal settecento e fino ai nostri giorni non ha smesso di prendere di mira la chiesa che resiste nonostante tutto. Fa capire, fa capire una cosa importante, che lo spirito del mondo si allea, come ora vedremo, col demoniaco per far intendere che lodare Dio, l'incenso, l'incensiere, l'altare è perdere tempo. In realtà la dimensione liturgica resta centrale perché ciò che dà senso alla storia, io vi chiedo di pregare per capire quello che stiamo dicendo, perché è molto importante, è la lode a Dio che ci tiene in piedi. Io so per esperienza mia e delle anime che ho seguite che quando un'anima prega non crolla mai. Ecco, c'è questo passaggio sempre più avvincente dal demoniaco al divino. Si era parlato delle cavallette degli scorpioni, adesso invece l'altare d'oro. Quindi dal demoniaco, avete notato, si torna al divino e dal divino di nuovo viceversa agli abitanti della terra Cato Incuntas. Ora, qui si parla di quattro angeli che stanno in questo trono d'oro. Diceva il sesto angelo che aveva la tromba, libera i quattro angeli. Allora c'è un angelo che ha la sesta tromba, ha questo angelo, un altro angelo, una voce, dice libera i quattro angeli. Dice von Balthasar, è un'effervescenza angelica. Vedete molto bene come lo strumentario dell'Apocalisse serve a recuperare una visione di fede che il cattolicesimo modernista Bergogliano, chiamatelo come vi piace, ha perduto di vista. I angeli sono co-protagonisti. Ma chi sono questi quattro angeli? Libera i quattro angeli incatenati sul grande fiume Ofrate. Intanto, notate, c'è un richiamo a Satana che apre il pozzo dell'abisso e libera l'esercito demoniaco. Allora, vi dico subito che non è facile individuare chi siano questi quattro angeli. È difficile per tutti gli studiosi capire chi siano. Secondo Don Dolino Ruotolo, l'angelo della sesta tromba è l'arcangelo, uno dei sette arcangeli, in particolare Geudiele, l'angelo della lode di Dio. E i quattro angeli sarebbero, pensate un po', cosa dice Don Dolino, Churchill, Mussolini, Hitler e quello americano, adesso mi sfugge il nome, i quattro presidenti, chiamiamo così, o ministri, che hanno scatenato la seconda guerra mondiale. Cioè lui dà una lettura, Eisenhower, ecco, mi sono ricordato, Eisenhower, lui dà una lettura di questo testo alla luce della seconda guerra mondiale. Io personalmente non sono d'accordo. Ma allora chi sono questi quattro angeli? Secondo me bisogna rifarsi ad Apocalisse precedente, capitolo 7, versetto 1, che dice, vidi, dice Giovanni, quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, ve lo ricordate questo? E trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Quindi si parla già di quattro angeli in passato. Allora io ritengo che questi quattro angeli imprigionati, incatenati sul grande fiume Eufrate, siano gli stessi di cui si parla in Apocalisse 7, 1. Però, ripeto, qui non c'è un'interazione ufficiale, è molto difficile capire chi siano. Forse un aiuto lo può dare la collocazione geografica, incatenati sul grande fiume Eufrate. Penso che sappiate tutti voi che l'Eufrate è innanzitutto uno dei quattro fiumi dell'Eden, il paradiso terrestre, ed è la frontiera del popolo eletto. Durante l'impero romano l'Eufrate indicava la frontiera col mondo dei barbari. Da questa parte c'è l'impero romano, questo è l'Eufrate, da quest'altra parte ci sono i barbari, frontiera. Attenti bene. Ma inoltre, per gli ebrei, l'Eufrate era la frontiera. Da questa parte gli ebrei, da quell'altra parte i babilonesi. Babilonia, di cui si parlerà in Apocalisse più avanti, nella città dove c'erano circa 75 culti idolatrici. Immaginate voi. Cioè la gente poteva scegliere, come un supermarket, quale divinità adorare? 75 circa, forse anche di più, templi dedicati a divinità diverse. Capito? Quindi l'Eufrate indica una frontiera tra il regno divino da questa parte e il regno antidivino dall'altra. Allora vuoi vedere che sono angeli decaduti questi quattro angeli? Non è facile rispondere a questo. Se l'Eufrate, mi state seguendo, indica la frontiera tra il divino e l'antidivino, è possibile che questi quattro angeli possano essere angeli decaduti, quindi demoni, per il fatto che provengono dalle Eufrate. Tra le altre cose, dalle Eufrate si mossero Nabucodonosor e i babilonesi per devastare la città santa di Gerusalemme. Per alcuni padri della Chiesa, dal fiume Eufrate, Cristo crescerà, verrà cresciuto sulle rive del fiume Eufrate. Mi pare, adesso mi ricordo il nome del padre della Chiesa, l'Eufrate poi torna addirittura nuovamente in Apocalisse più avanti, capitolo 16, versetto 12, quando si parla delle coppe, sulla sesta coppa si dice quindi come compare. Ma qui Giovanni è veramente straordinario, ha una capacità geometrica di impostare cose che si rimane senza parole. Se fosse vero che era scritto lui in carcere, ai lavori forzati, perché l'Eufrate c'è nella sesta tromba e poi ritorna nella sesta coppa. Sei è il numero dell'Anticristo. Sei, sei, sei. Va bene? Allora, guardate cosa dice Apocalisse 16, 12. Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio del re dell'Oriente. Allora chi sono questi quattro angeli che vengono liberati dal fiume Eufrate? Beh, fioli cari, se è vero, questa è la mia deduzione, per cui non è detto che dobbiate essere d'accordo, è la mia interpretazione, se è vero che dal di là del fiume Eufrate sono venuti i babilonesi che hanno distrutto la città santa di Gerusalemme, qui c'è un riferimento ai demoni, a un assalto del demoniaco nei confronti della nuova città santa, Roma, la chiesa. Allora io qui ci vedrei il sogno di Leone, la visione, non il sogno di Leone XIII, quando vide la chiesa, diciamo, colpita dai demoni. Vi ricordate? La basilica di San Pietro fu del tutto coperta. Io qui ci vedo il riferimento al terzo segreto di Fatima, l'apostasia, la perdita della fede, l'ingresso di Satana, come dirà padre Pio a Don Amort, che arriverà a sedersi sul trono di Pietro. Questa derivazione dal fiume Eufrate è più importante di quanto immaginiamo. Ci dice che siamo in presenza, già con la quinta tromba, adesso lo si capisce ancora di più, di un assalto demoniaco senza precedenti. È previsto che accada questo, lo ha stabilito Dio. Al versetto 15 si legge furono liberati i quattro angeli, quindi questi quattro angeli viene dato ordine di liberarli perché sono prigionieri e questo confermerebbe che siano, casomai, angeli decaduti perché stanno nel pozzo dell'abisso. Vediamo cosa fanno. Furono liberati i quattro angeli pronti per l'ora, attenti, il giorno, versetto 15, il giorno, il mese e l'anno al fine di sterminare un terzo dell'umanità. Miei cari, qui veramente il tono diventa drammatico. È un'espressione tipica dell'Apocalisse, quella di stabilire il momento senza far capire esattamente qual è il momento. Notate, no? È come se Giovanni indugiasse ma alla fine non ci dice niente. Ah, ecco, allora ci dici quando è quel che accadrà? Accadrà perché erano pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, ma non ci viene detto né l'ora, né il giorno, né il mese, né l'anno. Rimane tutto dentro, dice von Balthasar, l'indecifrabilità simbolica del registro di Apocalisse. E attenzione quindi alle interpretazioni letterali, dei numeri della Bibbia, come per esempio nel profeta Daniele. Il profeta Daniele quando si parla dell'apostasia, no, dell'apostasia anche dell'abominio, della desolazione, si parla per esempio di 70 settimane, no? Sono tutte espressioni simboliche, non vanno interpretate alla lettera. E Giovanni lo conferma che i quattro angeli vengono liberati il giorno, l'ora, il mese e l'anno, ma non sappiamo esattamente quali sono questi giorno, mese, ora e anno. Ecco, qualche studioso in questo vi vede il riferimento alla diecima piaga d'Egitto. Vi ricordate? Qui vengono sterminati un terzo dell'umanità. L'ultima piaga è lo sterminio dei primogeniti d'Egitto. Vi prego di fare presente il dramma che accade. Non vi fu mai qualcosa di simile, dice la scrittura. Un urlo, un grido di dolore si alzò da tutto l'Egitto. L'angelo sterminatore! Attenzione, vedete che torna tutto e tu è incredibile l'apocalisse, è soltanto un puzzle che tu devi solo riuscire a ricomporre. Vi ricordate? L'angelo sterminatore arriva. Io sin da piccolo sono rimasto affascinato da questi episodi biblici. Mi immagino questo angelo nella notte buia in cui gli ebrei sono dentro le case a consumare l'agnello e hanno passato il sangue dell'agnello sugli stipidi delle porte e questo angelo sterminatore quando vede il sangue dell'agnello passa oltre ma dove non lo vede entra e cerca il primogenito, lo strangola e lo fa morire. E muoiono tutti i primogeniti d'Egitto, compreso il figlio del faraone. Ora, secondo gli studiosi, qui noi siamo in presenza di una riproposizione. Abbiamo visto, l'abbiamo detto più volte, che le sette trombe richiamano le dieci piaghe d'Egitto. Quindi, secondo alcuni studiosi, io condivido questa posizione, qui siamo in presenza del climax, cioè del pick up, come dicono gli inglesi, il punto più alto, perché siamo in presenza di una riproposizione della decima piaga, si passa alla morte. Questi quattro angeli, che probabilmente, come vi ho detto per me, sono demoni, operano l'uccisione di un terzo dell'umanità. Oggi siamo sette miliardi, quant'è un terzo? Poniamo, se accadesse oggi, c'è qualcuno di voi che lo sa fare? Due miliardi e mezzo. Due miliardi e mezzo. Se prendiamo alla lettera questo brano, significa che questi soli quattro angeli sterminano due miliardi e mezzo di esseri umani. E lo sterminio è impressionante. E i studiosi si domandano, ma che tipo di sterminio è? Vi ho detto poc'anzi Dondolindo, ve lo ricordate cosa dice Dondolindo? È la guerra. Ma invece Ugo Vanni propende per una peste. Guardate come tutto può tornare attuale. Fiori cari, oggi non fa più paura, la guerra nucleare. Fa paura, ormai è stato tutti chiaro, la guerra batteriologica. Capito? Un virus come quello, per esempio, che abbiamo visto, che ferma l'economia mondiale, che riduce gli esseri umani a tartarughe in letargo. Va bene? Ripeto, la guerra batteriologica è la vera frontiera. Io sono d'accordo con Ugo Vanni. Cioè l'uomo ha raggiunto vertici di manipolazione genetica, di sperimentazione sui batteri, sui virus, quelle robe lì, che può, come sempre succede, sfuggire il controllo. Capito? Può sfuggire il controllo. Uno, due, tre virus, altro che due miliardi e mezzo, altro che un terzo. Anche metà dell'umanità, della popolazione mondiale, se si continua di questo passo, può arrivare a essere sterminata. Quindi non sono scenari, tutto sommato, ahimè, ai nostri giorni, così impossibili. Cioè Ugo Vanni dice che lo sterminio presumibilmente è una peste. A questo punto, mentre Giovanni sta raccontando di questi quattro angeli che provengono dalle Eufrate, per ordine dell'angelo che ha suonato la tromba dinanzi all'altare d'oro, ci aspettiamo, diciamo così, un approfondimento. Invece c'è uno stacco narrativo e c'è uno stacco improvviso, ex abrupto, che è tipico, come ormai ci siamo abituati a vedere, di Giovanni. Infatti, al versetto 16 si legge, il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi il numero. C'è qualche legame con ciò che è stato detto precedente, secondo voi? In precedenza? No, non c'è. Di per sé non c'è immediatamente. Si sta parlando dei quattro angeli che stanno sterminando, venendo dall'Eufrate, che è la regione dell'anticristo, come abbiamo detto, che è la regione di confine, la frontiera tra il regno del divino e dell'antidivino, e adesso improvvisamente ci parla di una cavalleria come se noi dovessimo conoscerla. Ripeto, il numero delle truppe di cavalleria... Scusa, Giovanni, ma quale cavalleria? Di che cosa stai parlando? Stavamo parlando dei quattro angeli? Dice giustamente Ugo Vanni, e non è l'unico a dirlo, che questo è ciò che rende incredibilmente abile Giovanni. È un ennesimo stacco narrativo quasi cinematografico perché si torna al demoniaco. Il numero è iperbolico, iperbolico. Nel testo greco si dice dismiriades miriadon. Nel testo greco si dice dismiriades miriadon, che tradotto letteralmente significa due miriadi di miriadi. Allora i studiosi hanno fatto un calcolo. È un numero iperbolico. Una miriade è diecimila unità. È la moltiplicazione tra due miriadi, di 100 milioni. Ma qui si parla di due miriadi di miriadi, e cioè 200 milioni. Fioli cari, anche Ugo Vanni, che tendenzialmente è uno con i toni quieti, dice che siamo in presenza di una cifra impressionante. Anche qui non è forse un riferimento non forzato alla visione di Leone XIII, alla chiesa di Roma attaccata da, qui si parla di 200 milioni. È una cavalleria impressionante. E dice Ugo Vanni, la cifra di 200 milioni indica un'aggressione del demoniaco cui gli abitanti della terra non potranno sfuggire. E Giovanni, senza preoccuparsi di collegare quello che sta dicendo a ciò che precede, prosegue parlandoci di questa cavalleria e ci dà delle caratteristiche. Vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalla loro bocca uscivano fuoco, fumo e zolfo. Dunque, corazze di fuoco. Sono immaginate questi 200 milioni di cavalieri che invadono il pianeta Terra. Dice Don Dolindo, sono gli eserciti nazista, fascista, sovietico. Diciamo, non è che poi è un'intervenzione così peregrina quella, perché veramente con la seconda guerra mondiale c'è stata l'apocalisse sulla Terra, noi non l'abbiamo vissuta, quindi non è così peregrina. Però mi sembra in questo senso un po' troppo ridotto, perché allora se è accaduto quello che stiamo vivendo cos'è? In ogni caso è uno scenario che impressiona. Chiunque si smarrirebbe di fronte a 200 milioni di demoni, di diavoli, che stanno cavalcando, è una cavalleria. Non so se avete presente il Carmina Burana, provate ad averli presenti, è quella musica lì, che è, ecco, Legends of Doom, per esempio, o anche l'altro Preliator, che avanzano senza temere nulla, il loro scopo è sterminare ciò che ancora resta in vita. Ma perché Dio permette tutto questo? Ma cosa vuole dire esattamente l'apocalisse? Il fatto che indossino corazze di fuoco, corazze di fuoco, il termine greco è pirinus, indica che è una cavalleria demoniaca, perché il fuoco è uno demoniaco. E aggiunge Giovanni che queste corazze che sono di fuoco sono anche di giacinto e di zolfo. Non so se conoscete il giacinto, lo zolfo credo di sì. Il giacinto è rosso scuro, mentre lo zolfo è scuro, ma diventa anche giallo. No? Come quando accendete il gas, no? E vedete la fiamma. Ecco, lo zolfo, teiodes in greco, è un simbolo demoniaco per antonomasia. Sapete perché? Perché è affascinante, ma anche nauseabondo. Emette un fetore che adesso procurerà, come sentirete, un ulteriore sterminio degli abitanti della terra, che per uno, come avete sentito già nella lettura, non si convertiranno, non tornano a Dio. Le teste dei cavalli erano come teste di leoni. Immaginate voi un cavallo con la testa di leone. Metto una certa impressione, perché il cavallo è a servizio dell'uomo, lo sappiamo. In questo caso diventa simbolo dei demoni. Ecco perché la testa è del leone. Vi ricordate, Pietro come leone ruggente, il diavolo va in giro cercando chi divorare. Il connubio cavallo-leone esprime il massimo della potenza. Il cavallo esprime potenza, ma anche il leone. Sono due animali virili, vigorosi, potenti. Satana vuole dimostrare di avere il potere, di essere il cosmocrator. E vi ricordo che il pantocrator è Cristo, ma lui vuole essere il cosmocrator, cioè colui che è sulla terra ha il potere. E come scrive Biguzzi, uno degli studiosi di Apocalisse, il carattere ibrido degli animali, cavalli con teste di leone, e adesso vedremo con le code di serpente, è sinonimo di mostruosità. E noi sempre vediamo questo, il demoniaco si manifesta sempre nelle vesti del mostruoso, dell'orrido, del pauroso, dell'orrendo, del terribile. E questo è tipico della epifania demoniaca. Ma non è finita. Da questi 200 milioni di cavalli con le corazze, cavalieri con le corazze di fuoco, di giacinto e di zolfo, usciva fuoco, fumo e zolfo. Si tratta di un'accentuazione narrativa. Indica un'insidia crescente e terrificante del demoniaco in quella città di uomini che ha voluto fare a meno di Dio. Il tema è sempre quello. Vi ricordate? Hanno costruito un impero economico, sociale, politico, culturale, religioso senza Dio. E invaso questo mondo per volere di Dio dal demoniaco stesso. C'è senza dubbio qui un riferimento a Sodoma e Gomorra. Per il fuoco e per lo zolfo, Genesi 19, 24. Il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, zolfo e fuoco proveniente dal signore. È un messaggio molto forte della scrittura, fioli cari, non solo dell'Antico Testamento, ma del Nuovo Testamento. Queste interpretazioni ridicole, banali, queste interpretazioni bizzarre di Sodoma e Gomorra come le fa la chiesa bergoiana. Allontanatevi da loro. È Dio che raggiunge la città degli uomini per giudicarla. Naturalmente il castigo è in vista della conversione, ma il castigo è castigo. Sodoma e Gomorra per il peccato contro natura, che torna, la porneia, ora lo vedremo, è uno dei quattro. Cioè, quelli che rimarranno in vita, ve lo anticipo, anziché convertirsi, si daranno ancora di più allo sfogo carnale, alle passioni umane, bestemmiando il nome di Dio, che ci sei venuto a disturbare tu dal cielo. Lo vediamo molto bene. Il consorzio umano oggi si è costruito senza neanche fregarsene se Dio esiste. Non è più un problema contingente, non esiste il problema Dio. E se esiste non ci deve disturbare. È un Dio che perdona, è un Dio bacchettone, è un Dio bergoiano, è un Dio della falsa chiesa che non dà problemi. No, qui vediamo molto bene come tutto va al contrario. E poi fuoco e zolfo. Ma in Genesi 19-28 si parla anche del terzo elemento, di cui sta parlando Giovanni. Fuoco, zolfo e fumo. Leggiamo. Genesi 19-28. Abramo contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. È uno scenario di totale distruzione. Avete presente Hiroshima e Nagasaki dopo che fu sganciata la bomba atomica? Ecco, è nulla in confronto alla devastazione, al disastro orrendo che questi 200 milioni di cavalieri demoniaci procurano per permissione divina sulla terra. E i versetti 18-19 dicono, e ci avviamo verso la conclusione, da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo, dallo zolfo, che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. Allora, noi stiamo dicendo oggi che siamo 7 miliardi. Un primo terzo dell'umanità è stato ucciso dai quattro angeli che venivano dalle Eufrate e quindi due miliardi e mezzo. Un altro terzo viene distrutto e sono altri due miliardi e mezzo. Sono 5 miliardi di esseri umani. Non so cosa ci aspetta, Fioricano. E la smettano i paciocconi bergogliani che fanno credere che quando si trattano queste questioni qui siamo fondamentalisti, siamo... è la parola di Dio, eh? E sono testi sotto i nostri occhi. Un altro terzo viene sterminato dai 200 milioni di cavalieri. 5 miliardi, se facciamo riferimento a quanti siamo, oggi sulla Terra. E quindi ne restano soltanto due miliardi che però faranno di tutto per bestemmiare Dio e dirgli che non accettano la metanoia, come vedremo. C'è la conversione. Fu ucciso un terzo dell'umanità. E il versetto 19, la potenza dei cavalli. Io credo che qui sarete d'accordo con me che la sesta tromba è anche peggiore della quinta. La potenza dei cavalli infatti sta nella loro bocca e nelle loro code. Vabbè, il cavallo ha la coda, vediamo di capire. E infatti Giovanni aggiunge che le loro code sono simili a serpenti. Qui l'orrido raggiunge il suo vertice. Veramente congratulazioni a Giovanni che se ha visto, ha visto, ma se non ha visto è stato veramente un genio. Ha rappresentato un cavallo di zolfo, fuoco e fumo, con la testa da leone e la coda da serpente. È un ibrido che parla di mostruoso, di orrido, di orrendo. Ecco, cavalli con teste di leone che diventano serpenti oppure qualcuno dice, sta dicendo che sono gli scorpioni divenuti giganti. Lo scenario è veramente sconvolgente, figlioli cari. E gli uomini, l'altro terzo dell'umanità che viene ucciso da questi cavalli, come vengono uccisi? Nel peggiore dei modi, una morte lenta, atroce, bruciati. Il fuoco brucia. Ecco perché Don Dolindo, ruotolo, dice che è la seconda guerra mondiale, i bombardamenti. Proprio racconta tutto questo lui. Dice che questi quattro angeli, ho detto, sono Churchill, Eisenhower, Mussolini e Hitler. Ma in effetti se tu vuoi guardare immagini della bomba atomica Hiroshima e Nagasaki, poi leggi che un terzo dell'umanità muore bruciato, asfissiato, irritato dallo zolfo. Insomma, tutto sommato, non è che Don Dolindo ruotolo poi se lo inventasse tutto questo, capite? L'unica cosa che non condivido è che doveva forse lasciare un po' aperta l'ipotesi che potesse esserci altro. Invece lui è proprio convinto che è quello lì. E chissà, però non vive, se fosse vissuto ai nostri tempi, avrebbe pensato diversamente. Per esempio, un terzo dell'umanità, io sto gettando tutte le cose lì, poi voi fate la sintesi e spero di non annoiarvi, bruciati dal fuoco, asfissiati dal fumo, irritati dallo zolfo. L'ozolfo procura una morte atroce, ti squaglia la pelle, come Hiroshima con la bomba atomica. Ma se vogliamo attuare i nostri giorni, che cos'è che asfissia? Che cos'è che irrita? Che cos'è che brucia? Se non l'eresia? Se non l'apostasia? È qualcosa di peggio della bomba atomica. Allora, qual è questo tormento per cui un ulteriore terzo dell'umanità muore? Secondo Vanni è lo stato della crisi interiore. Cioè il mondo, lui parla sempre dei catacolini, scusate che prendo il termine, è sempre un po' difficile da pronunciare. Dunque, cato oicuntas, cato oicuntas, cata oicuntas oichia, c'è coloro che abitano la casa. Chi sono coloro che abitano la casa? Gli abitanti della terra. Hanno costruito un mondo senza Dio, politico, religioso, economico, una cultura antidivina. Dio permette che questa cultura venga presa da sedio e sterminata dai demoni. Incredibile punizione divina che però è volta alla conversione. Su questo sono d'accordo tutti gli studiosi. Dicono, non possiamo negare, pur con un certo imbarazzo, che Dio fa qualcosa di inaudito. Cioè lascia tra la quinta e la sesta tromba. Avete visto che adesso siamo andati finalmente come qualcuno non vedeva l'ora nel contesto che poi rimane più classico di Apocalisse. E qui ci aiuta l'indugio cristocentrico che avevamo fatto, perché quando si scatena il demoniaco è qualcosa di tremendo. Tra la quinta e la sesta tromba sta succedendo di tutto, no? Ed è Dio che lo vuole. È Dio che lo vuole. Su questo gli studiosi non hanno dubbi, ma aggiungono che questa punizione divina è volta alla conversione. Dio castiga per correggere, punisce per convertire. Scusate, a me viene in mente il messaggio di La Salette, dove la Madonna dice che ci sarebbe stata una carestia perché gli abitanti del posto bestemmiavano. Effettivamente ci fu una carestia che fece morire un terzo dei bambini. La Madonna poi aggiunse che se si convertissero le pietre diverranno pane. Dio castiga, Dio punisce, ma naturalmente, e questa è una cosa che la farsa chiesa non vuole sentirsi dire, ma è biblico, capito? È biblico. Non è che ce lo inventiamo. Fintanto che contestano che la Madonna l'abbia detto a Fatima, vabbè, ma è l'Apocalisse. Ugo Vanni dice Dio castiga per correggere, punisce per convertire. Questo lo vediamo anche nei santi e nella vita di ognuno di noi. Quante volte ci sarà capitato, se siamo saggi, che quella malattia, che quella prova serviva a Dio per purificarci, per punirci in vista della conversione, capite? Per esempio qui c'è una ripresa midrashica del libro della Sapienza, capitolo 11, versetti 15-16 dice per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, da essi ingannati venerarono rettili senza ragione e vili bestiole. Sono i culti mesopotamici ed egiziani che gli ebrei incredibilmente, loro che hanno fatto esperienza di Yahweh, del Dio vivente, del Dio di Abramo, di Sacco e di Giacobbe, anche loro lo venerano. E allora Dio scatena la sua ira, no? Lo sappiamo. 596 a.C. Cristo Nabucodonos rinvade Gerusalemme e la rade al suolo, prende tutto ciò che resta del tempio e lo porta agli idoli pagani di Babilonia, fa sterminare il popolo ed è Dio che castiga, perché il peccato di idolatria, e l'Apocalisse lo dice molto chiaramente, è esattamente quello che più di tutto scatena, scatena l'ira di Dio. E allora guardate cosa dice Sapienza. Tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse poi è castigato. Tenetelo presente, miei cari figlioli, l'inferno è questo. L'inferno sarà una dannazione di castigo secondo il peccato che ha portato all'inferno. Questo già Dante, la visione dantesca lo ribadisce, va bene? Ma la tradizione lo insegna. E qui il tentativo risulta vano, la medicina non funziona. Anziché essere guariti, i abitanti della terra e catoi kuntas si ribellano a Dio. E qui veramente lo scenario, a mio avviso, non so voi come la pensate, siamo rimasti un po' tutti impressionati adesso dal demoniaco. Rilassatevi perché adesso un po' cessa. Giovanni è furbo, ha esagerato un po', si è reso conto tutta sta storia di cavalli, serpenti, scorpioni, cavallette, adesso per un paio di capitoli un po' si acquieta, per poi esplodere di nuovo in maniera clamorosa, però un po' si calma. Ma a me non colpisce, non so se siete d'accordo voi, tanto questo quanto quello che segue. Ascoltate e concludiamo i versetti 20-21. Il resto dell'umanità, che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle opere delle sue mani. Io trovo che questo versetto 20, capitolo 9, di Giovanni è più orrendo, non so se siete d'accordo, è più tremendo della visione dei mostri e dei cavalli con le teste di leone e le code di serpente, dello zolfo, del fuoco, dei quattro angeli, delle leofrate, del pozzo dell'abisso e di lucifero cascato. Non so, questa è una mia... di fronte alla pervicacia, all'ostinazione degli uomini che vedono e capiscono che Dio li sta punendo, ma non si pentono. Io trovo che questo è qualcosa, secondo me anche Giovanni vuole dirlo, di più orribile, di più mostruoso di ciò che è stato narrato. E Giovanni va nel dettaglio. Non cessarono di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono né vedere né udire né camminare. Non rinunziarono nemmeno agli omicidi, alle stregonerie, alla fornicazione, alle ruberie. Qui si conclude il testo. La punizione quindi non porta. Dio ha lasciato scatenare tutto questo. È come di scena, la barba bianca, no? Vediamo, vediamo se questi tornano. Proviamo a vedere se tornano. Datevi da fare. Cioè, tutti gli angeli, liberate i demoni e mandateli sulla terra. Hanno libertà di agire, perché è sempre Dio che lo permette. E Dio vede che invece non cambiano. Anzi, la punizione non porta alla conversione dei superstiti, ma alla loro ribellione, la rabbia che provano nell'avere scoperto che il loro disegno, e questo è qualcosa di molto attuale per il nuovo ordine mondiale, la massoneria internazionale, i poteri forti, questi credono che quando noi parliamo di queste cose, siamo degli idioti che credono nelle favolette, quando scopriranno che invece è parola che si realizza, non si convertiranno, la loro ira crescerà. Saranno come il faraone d'Egitto. Qui c'è forte il parallelismo tra il faraone d'Egitto e il kataikuntas, gli abitanti della terra. Il verbo al versetto 20 è molto forte, è metanoeo, non si convertono. Il verbo proprio della conversione metanoeine, c'è cambiare mente. Anzi, si dice non cessarono di prestare culto ai demoni, il verbo è drammatico, proschiuneo significa prostrarsi. Oggi il satanismo, lo vediamo fioli cari, è preoccupante quello che diciamo, è in larga diffusione il satanismo, si moltiplicano le sette sataniche, c'è un gusto per l'orrido, anche quando è inconsapevole. C'è una corsa verso il demoniaco, i tatuaggi, c'è troppa gente tatuata con serpenti che avvolgono le braccia, con draghi, con forchettoni, con angeli che hanno una fisionomia niente affatto rilassante, con scritte che dicono loro essere cinesi e giapponesi e chissà invece che cosa dicono. Il tatuaggio, il piercing, la moda, ci sono queste magliette in giro, io ne vedo, ne vedo, quando anche sono stati in Argentina ho visto quello con i teschi, si diffonde moltissimo questa moda con i teschi, con le catene, le magliette ACDC, sì, no? Anticristo, morte a Cristo, i serpenti, i draghi, c'è una corsa, o mi sbaglio, c'è una corsa, no smisero di prestar culto ai demani. Un po' elegantemente il testo traduce prestar culto, ma è proschunein, che significa prostrarsi, mettersi in ginocchio dinanzi a Satana, sono le sette sataniche, il satanismo oggi è assolutamente diffuso. Infine il versetto 21 dice che anzi si diedero di più ancora alle quattro attività peccaminose, omicidi, stregonerie, fornicazione e ruberie. Omicidi, fonoi in greco, è un riferimento al peccato di uccisione, cioè a uno che uccide un altro? Non credo che sia soltanto questo, credo che qui il fonoi indica i sacrifici umani, è un tema troppo delicato da trattare, vista anche l'ora e quindi lo glisso, ma guardate che non è roba fantascientifica, non è roba fantascientifica. Io penso che quando si dice non rinunziarono agli omicidi, qui non è solamente uccidere una persona come Capo, no, qui è proprio a mio avviso un riferimento ai sacrifici umani. La seconda condizione, le stregonerie. farmachieiai in greco. Biguzzi dice sono le arti magiche diffuse nel mondo antico, ma oggi noi vediamo molto bene, padre Amort era molto preoccupato di questo, è molto diffuso il sortileggio, la cartomanzia, te vai a Roma per esempio, prendi la metro, appena esci a tutte le uscite, soprattutto quelle famose come Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, ti trovi cartomanti a Roma, seduti nelle panche, la gente che si fa leggere le carte, la cartomanzia è molto diffusa, la stregoneria. Ci sono persone che sviluppano, vendendo l'anima al diavolo, sviluppano competenze di conoscenza che conferisce c'è l'anima alitismo e poi le tucchiere, le maggere, cioè quelle che fanno la magia nera, i farmachieiai e questa roba qui. Anziché quella che sopravvive, anziché tornare a Dio, si dà agli omicidi, ai sacrifici umani. È uno scenario più inquietante, a mio avviso volutamente, più inquietante dei 200 milioni di demoniaci. Non so voi, io la penso così e le ultime due attività, concludiamo, sono la porno, la clemmata, i clemmata. I clemmata sono i furti, no? Non può però solamente prendere una caramella e fuggire via come fa il bambino. Furto significa la disonestà, la disonestà di relazione, tangentopoli, no? I posti, le poltrone, purtroppo anche nella chiesa molti cardinali. Io so questo, i cardinali diversi, parecchi cardinali, comprano il denaro come forma di corruzione. e la porneia, infine. Che cos'è la porneia? Il termine stesso fa capire la perversione sessuale senza freno, la diffusione drammatica della perversione sessuale. 8 milioni di italiani sono sessuale. La perversione, il peccato contro natura, lo scambio delle coppie. Insieme, il marito concede la perversione per avere sua moglie. Poi ci si sa a letto e lì le orge. Capito? È veramente... Fioli cari, non c'è più freno, è guai a dirlo. Ora, ora, adesso c'è la legge, un'ulteriore legge parlamentare che non si sviluppa nulla. Si sviluppano ulteriori leggi che proteggono la porneia. Cioè, ognuno può far sesso con chi vuole, come vuole, dove vuole. Questo è lo scenario, e ho concluso, nel quale si situa l'assalto dello sciame e demoniaco sulla terra, l'apostasia dilagante, la perversione, senza frazione, senza coscienza. Tutto questo serve a far in modo che arrivi l'anticristo. Nel tempio di Dio darà inizio alle tremende persecuzioni contro i veri credenti che portano il sigillo della salvezza, ma che anche se uccisi davanti all'agnello, hanno, alleluia, 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 ha vinto Dio e il suo agnello. Amen. Bene, miei cari, io ho concluso. Adesso c'è spazio per qualche telefonata. Il numero lo trovate in sovrimpressione. Spero di non avervi annoiato. Il numero, me lo ricordo, è 34410. Potete intervenire su questo o su altre tematiche affini a queste, o anche su altra roba, secondo quello che ciascuno di voi vi ho riempito e stufato un po', ma domani ci vedremo per me. Una pausa abbondante, così vi disintossicate un po', prendete fiato dopo questo ritmo così intenso di catechesi. Ricordo di nuovo il numero, 349-410-1638. È scritto troppo piccolo, quindi non lo vedevo. Ecco, mentre attendiamo che arrivi qualche telefonata, volevo dirvi anche che l'Apocalisse la riprendiamo la settimana prossima, naturalmente, e poi questo ciclo di catechesi sarà prodotto in un libro a vostra disposizione quando sarà disponibile, naturalmente ve lo renderò noto. Beh, si vede che sono stati tutti stermi. Ecco, pronto? Giacomo, sia lodato Gesù Cristo da Milano, dimmi pure. Ehm, volevo chiedere, il ratto salvitico, perché non ne parla quasi nessuno, anzi, nessuno mai ha sentito in chiesa parlare del ratto salvitico che ci spiegavano, e tra l'altro poi, se possibilmente poi le potevo parlare anche in privato, quando sarà che ha tempo. Sì, sì, ho capito di cosa parli. Dio ti benedica intanto, Giacomo, da Milano. Allora, il ratto sarebbe il rapimento degli eletti, e ci arriveremo però, l'Apocalisse un po' ne parla, e forse su questo tema del ratto o del rapimento degli eletti si è costruito un po' troppo, in maniera, secondo me, eccessiva. Però avremo modo di trattarlo, e vedremo che si riferisce, in termini simbolici, almeno nell'Apocalisse, a una forma di protezione da parte di Dio, cioè Dio protegge i suoi eletti. Quindi rapirli non significa, come qualcuno ha pensato, un sollevamento, ecco, si chiama così il sollevamento degli eletti, ma significa piuttosto una forma di, non so come dire, di salvaguardia. Non però, come ho già detto l'altra volta, perché nessuno si faccia illusioni dal fatto che non si possa essere castigati, ma che si viene protetti dall'apostasia e dall'eresia. Pronto? Pronto? Sialudato Gesù Cristo. Sialudato. Niente, molto piacere, mi chiamo Andrea. Da dove chiami Andrea? Quando si stavo seguendo sul canale, ne so parecchie anche io di quello che diceva, ho avuto la fortuna nella vita, ma per poco tempo, poi tornato da casa del padre, di conoscere il padre Gabriele Amort, e niente, l'ho sentita, la stavo seguendo, niente. Da dove chiami Gabriele? No, Gabriele. Andrea. Andrea, da dove chiami Andrea? Eh, da la fettura Sabenia. Ah, va bene, sì. Bene, Andrea. Dio ti benedica con tutto il cuore, eh? Grazie. Ascolta, se vuole, su Facebook ci sono poche idee all'amicizia, però per ogni avvenienza ho scritto il mio nome in nostra lingua, in ebraico. Va bene. D'accordo, d'accordo. Dio ti benedica, Andrea, con tutto il cuore. E io vorrevo spuntare da questo per dire, è inutile che vi lamentiate in generale perché non vi rispondo, scrivete anche su Facebook per denigrarmi su questo. Io non posso arrivare a tutto, mi scuso, lo faccio di continuo, ma veramente la mole di richieste supera la possibilità che da solo io possa... Con gli stessi collaboratori risulta difficile, quindi immaginarsi. E quindi io non capisco perché quando si tratta di Don Minutella tutti si stuiano un cutieddu. Poi a Milano chiederanno cosa significa. Si stuiano tutto un cutieddu in capo. Non lo so io, veramente. E quando si tratta di Don Minutella, nessuna pietà. Quando si tratta di Don Minutella, deve dare il massimo a tutti i costi se non risponde, se non fa, se non dice, se non fa e quella. Allora lui non è più il Don Minutella che pensavamo. Tutti gli altri preti, anche grandi santi come Padre Pio, meritano indulgenza perché non ci arrivavano a tutto. Don Minutella, oggi uno, un certo Celso Barbari, scrive un post farneticante dove prende di mira Biagio Fiorilla e invece la gente pensa che sia Don Minutella. E che cosa succede? Che la gente scrive lì hai ragione, non è umile. Quindi il problema è tra Celso Barbari e Biagio e la paga Don Minutella. E vabbè, c'è sempre un fesso che paga per tutti. C'è un'altra telefonata, l'ultima. Pronto? Buonasera, si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato. Sono Carlotta. Da? Sono Carlotta. Sì, da dove? Carlotta, da Oristano. Carlotta, ecco. Sì, da Oristano. Prego, Carlotta. In Sardegna. Ricorda che l'ho disturbata a Radio Padania. L'avevo anche invitata in Sardegna. Se mi ricorda di me. Vagamente, vagamente. No, non importa. Come sta? Bene, tutto sommato mi diverto un po'. Tu come stai, Carlotta? Diciamo che, a parte un po' di attatti di malattia abbastanza importanti, non mi lamento. Bene, brava. Cioè, chissà peggio di me. Esatto. Che bello che si chiama famiglia. Allora, le volevo chiedere una cosa. Siccome è un'amica che, con le sue tutte chiesi, con la mia tanta pazienza, sono riuscita un po' a portare verso quello che è il nostro, ovvero la nostra vera cosa cattolica voglio dire di Cristo. Mi scusi, ma non mi sento molto bene oggi, e quindi volevo sapere, del braccialino che abbiamo fatto, il braccialetto, la catena, la catena, la catena, lei facendo tutte le nove, facendo la novena, tutto quello che abbiamo fatto noi per avere il braccialetto, che può fare? Che cosa? Questo, lei lo può fare, questo, di avere il braccialetto, come il capito a Maria, e la catena per Maria, voglio dire. Sì, certo. Come abbiamo fatto noi con lei, Don Alessandro. Certo, certo. Abbiamo fatto tutta la catichetta, tutta la novena, perché lei è arrivata dopo. Sì, 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 ho capito, Carlotto, ho capito. Sì, intanto ti benedico con tutto il cuore per la tua salute. Se c'è chi non ha potuto seguire la novena, l'ho già detto altre volte, può seguirla poi personalmente, sceglie una data mariana, si mette la catena nell'acqua benedetta e nell'olio e la indossa. Bene, miei cari, allora adesso vi do la benedizione, augurandovi una notte serena e un riposo tranquillo, senza cavalli con teste di leone o code di serpente, senza scorpioni e cavallette, ma vi auguro di andare a letto leggendo Apocalisse 1-2 e soprattutto la visione del Curios, bella quella immagine che ha i capelli bianchi, l'antico dei giorni, dice la scrittura, l'antico dei giorni, cioè è colui che domina il tempo. Nostro Signore Gesù Cristo, a Lui sia sempre la lode, la gloria e la benedizione di Dio Onipotente, in nomine Patris e Fili e Spiritus Santi, ame, sia lodato Gesù Cristo e avanti, comaria santa notte a tutti voi.